I bus della SCAT, così come annunciato qualche giorno addietro, si sono fermati e si sono dati appuntamento in piazza Garibaldi, dove sono stati già montati gli stand per la festività dei morti. Qui gli otto autobus della cooperativa sono stati multati con una sanzione di 41 euro dai vigili urbani. Una vertenza, quella dei 28 dipendenti della cooperativa che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città, nata a causa della mancanza delle somme necessarie per far fronte al pagamento delle polizze assicurative dei mezzi. Una situazione difficile che si aggiunge al taglio da parte della regione del 20% per i trasferimenti destinati al trasporto pubblico locale e che vede i 28 dipendenti della cooperativa da oltre 8 mesi non percepire le loro mensilità. Intanto martedì, giorno di scadenza delle polizze per il cui rinnovo occorrono 30.000 euro, si terrà un tavolo tecnico a Palazzo del Carmine, tra l'amministrazione e i vertici della SCAT e sindacati, programmato per le ore 9, durante il quale verranno trattati tutti i punti dell'avvertenza. Questo l'esito dell'incontro di oggi tra il sindaco Michele Campisi e il presidente della SCAT, Roberta Leonardi. Nell'attesa dell'esito del tavolo tecnico, gli autobus resteranno fermi all'autoparco e il servizio continuerà a non essere garantito alla cittadinanza.